Da Arezzo verso la riviera Romagnola, Rimini e Riccione, con il Marebus, la prima corsa si svolgerà sabato 29 giugno e proseguirà per tutta l'estate sino al mese di settembre. È un servizio pensato per migliorare l'accessibilità a una delle mete turistiche più amate, nato dalla collaborazione tra Autolinea Toscana e TMSPA. La linea è operata con autobus Gran Turismo, dotati di sedili ergonomici e spaziosi, ideali dunque per i lunghi viaggi. Lungo il percorso sono previste anche alcune fermate strategiche per consentire all'imbarco di passeggiari non residenti ad Arezzo, ma che abitano in aree urbane lungo il percorso. Fiori all'occhiello dell'iniziativa, la possibilità di muoversi nel bacino urbano di Rimini, raggiungendo anche le spiagge con l'Ibassa Start Romagna, presentandosi nella terra dei Malatesta in possesso del bicchietto, utile a fruire dei mezzi grazie ad un innovativo accordo di collaborazione tra aziende di trasporto toscane e romagnole. Inoltre è proposto anche un collegamento quotidiano diretto e veloce per Acqua Fandiriccione oppure per i set acquatici del Parco Oltremare. Quotidianamente la partenza è prevista alle 7 d'Arezzo dal terminal di fronte alla stazione ferroviaria. La corsa di ritorno parterà invece dall'Acqua Fandiriccione ed Oltremare alle 18 e alle 18.25 da Rimini con arrivo ad Arezzo alle 20.55, obbligatoria infine la prenotazione.